Il tema degli appalti non conformi alle norme di legge ritorna molto spesso nella giurisprudenza. Oggi approfondiamo il tema con l'avvocato Vittorio De Luca, managing partner dello studio De Luca e Partners, che da 50 anni si occupa di diritto del lavoro. Avvocato, quali sono i criteri per definire un appalto genuino? L'appalto, che è un contratto tipico disciplinato dal codice civile, trova una specifica disciplina e ulteriore integrazione nel decreto legislativo 276-2003, cosiddetta legge Biagi. Questa disposizione integra la definizione data dal codice civile, specificando che i criteri, perché un appalto possa essere ritenuto genuino, sono essenzialmente tre, e cioè rischio di impresa per l'appaltatore, organizzazione dei mezzi, organizzazione delle persone. Quindi l'appaltatore non deve essere un mero prestatore di mano d'opera, ma deve essere un imprenditore genuino, che organizza in modo assolutamente indipendente e autonomo i mezzi di produzione, che sono le persone e gli strumenti aziendali. Ovviamente nessuno di questi tre criteri è assolutamente indispensabile e inalienabile, però certamente sono tre elementi che vanno tenuti ben presenti. Mi riferisco per esempio all'ipotesi di un'attività cosiddetta labor intensive, chiaramente la presenza di mezzi di produzione diventa meno rilevante, ma ovviamente questa deve essere ampiamente compensata dalla assoluta indipendente organizzazione delle persone da parte dell'imprenditore. Ragioniamo adesso, ci dica un po' sulle conseguenze sanzionatorie di un appalto appunto non genuino. Vorrei fare una breve premessa, perché il tema dell'appalto non genuino, ovviamente anche per quello che ho appena rappresentato, è da sempre stato un elemento essenziale, è un ambito nel quale noi giuslavoristi ci siamo sempre trovati ad occuparci. Quello che però stiamo registrando negli ultimi 5-6 anni, con una tensione crescente, è un cambiamento delle conseguenze, perché lei correttamente ha usato la parola conseguenze piuttosto che le sanzioni, le conseguenze che derivano nel caso di appalto non genuino. I casi di cronaca, penso li abbiamo tutti presenti, sono stati estremamente frequenti negli ultimi anni, direi a partire dal decennio in corso in particolare. La situazione alla quale abbiamo però assistito è, da un lato l'attenzione è sempre maggiore da parte del legislatore, che è intervenuto a più riprese e soprattutto negli ultimi anni, nell'introdurre un sistema sanzionatorio sempre più pesante nei confronti dell'appaltante e dell'appaltatore, con addirittura da quest'anno l'introduzione di sanzioni penali consistenti nell'arresto, oltre che nell'ammenda i cui importi sono stati aumentati. Però non è questo l'unico elemento. Ultimamente, sempre dal finire del decennio passato, si è avviato un filone giurisprudenziale, anche da un punto di vista penale, che partendo dal presupposto che se l'appalto non è genuino, il contratto d'appalto non avrebbe dovuto esserci e i dipendenti avrebbero dovuto essere dipendenti direttamente dell'appaltante e non dell'appaltatore, la conseguenza è che l'appaltatore ha emesso delle fatture per operazioni inesistenti o addirittura false fatture e l'appaltante ha detratto IVA e dedotto i costi delle fatture dell'appalto indebitamente. Quindi le conseguenze, anche in questo caso, sono molto rilevanti di natura penale. Quello che noi rileviamo però nella nostra esperienza è che ancora c'è una mancanza di sensibilità da parte delle imprese. Ovviamente tutte le imprese sono coinvolte in contratti di appalto, non è immaginabile che un'impresa non ne abbia. Però spesso non c'è, salvo che in particolare nei settori che sono stati interessati, come il fashion, la logistica, appunto dalle indagini che negli ultimi anni si sono sviluppate, molto spesso non c'è piena sensibilità sulla gravità delle conseguenze e su quello che bisognerebbe fare per evitarle. Quindi intanto deve esserci un contratto redatto correttamente, perché spesso che l'appalto non è genuino diciamo che lo si intravede, a volerla dire così, già da come è scritto il contratto. Poi dall'esecuzione del contratto, ma questo ancora non basta, perché un contratto d'appalto può partire sotto le migliori intenzioni, essere regolato da un contratto fatto regola d'arte, ma poi magari nel corso del tempo, dopo un anno, due anni, cinque anni, le modalità di svolgimento dell'attività si snaturano e questo fa sì che l'appalto che è nato appunto sotto le migliori intenzioni diventi un appalto non più genuino. Quindi è indispensabile non solo che sia costruito bene a tavolino, ma che ci siano periodiche attività di audit, di verifica del corretto svolgimento dell'appalto, non solo da parte dei vertici aziendali, ma da tutte e due le organizzazioni che intervengono e collaborano nell'ambito del contratto. Bene, grazie Avvocato, il tema si presterebbe ancora ad altri sviluppi, altri ragionamenti, ma per il momento speriamo di essere stati utili per l'approfondimento del tema. Grazie dell'attenzione e grazie a voi. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.